Il sacco dei vandali di Genserico nell'estate del 455 fu il secondo grande saccheggio di Roma del V secolo dopo quello di Alarico del 410. Genserico, re dei vandali che avevano occupato l'Africa, attaccò Roma col pretesto di osteggiare l'usurpatore Petronio Massimo. Quest'ultimo aveva intenzione di sposare Licinia Eudossia, moglie del defunto Valentiniano III, e l'imperatrice aveva chiesto aiuto a Genserico. All'arrivo dei barbari la popolazione romana uccise Massimo e due giorni dopo, il 2 giugno, i vandali entrarono a Roma saccheggiandola per due settimane. La brutalità del saccheggio avrebbe portato alla creazione della parola vandalismo dal tardolatino al volgare. Racconta Procopio. Genserico, giungendo a Roma, prese possesso del palazzo e fece prigioniera Eudossia, oltre Eudocia e Placidia, la figlia di lei e di Valentiniano, e facendo trasportare sulle sue navi una grande quantità d'oro e di altri tesori imperiali, salpò per Cartagine non avendo risparmiato nemmeno il bronzo o qualsiasi altra cosa in tutto il palazzo, saccheggiò persino il tempio di Giove Capitolino e fece levare metà del tetto. Ora questo tetto era di bronzo della qualità più fine. Ma delle navi di Genserico una che stava trasportando le statue fu dispersa, essi dicono, ma i vandali raggiunsero il porto di Cartagine con tutte le altre.